E noi abbiamo voluto ripartire proprio da qui, da Luciana Litizzetto che ha voluto ricordare le sette vittime del ruogo della Thyssen per affrontare nuovamente il tema delle vittime del lavoro e dire stop agli infortuni e avanti con la prevenzione. Vittime come abbiamo visto spesso in attesa di giustizia o addirittura senza giustizia. Allora ne parliamo oggi in studio con le nostre ospiti, sono due donne, Marinella De Maffutis, bentornata Marinella che è responsabile della comunicazione dell'AMNIL, la associazione italiana mutilati invalidi del lavoro e con lei c'è anche Antonella Pietrosante, una vittima del lavoro giovanissima che accogliamo e salutiamoci e racconterà tra pochissimo la sua storia. Allora Marinella, abbiamo visto nella nostra copertina il ricordo di queste sette persone che abbiamo voluto ricordare una per una, ecco però le vittime del lavoro anche quando non sono diciamo legate ad incidenti eclatanti, comunque sono storie di persone che comunque devono riaffrontare il quotidiano insomma, quindi vogliamo parlare di questo aspetto. Sì, è vero, l'aspetto umano purtroppo viene spesso tralasciato perché si parla di numeri, come se chi subisce un infortunio sul lavoro in realtà facesse parte solo di una statistica. La nostra associazione vuole proprio sottolineare l'aspetto umano e quanto rimane dopo un infortunio. Quasi 500 mila iscritti vogliamo ricordarlo insomma. Sì, quelle della nostra associazione in realtà ogni anno sono oltre 700 mila le persone che subiscono un infortunio sul lavoro e circa 40 mila quelle che rimangono permanentemente invalide, quindi domani di un infortunio ecco che si ritrovano sole con moltissimi problemi e per carità è chiaro che la vita è sacra e quando una persona muole sul lavoro questa notizia c'è e viene data. Purtroppo degli infortuni, degli incidenti quotidiani, anche della perdita di una mano o di un incidente come quello appunto di Antonella non si parla mai. Di tante storie non sappiamo nulla. Allora Antonella, allora questo diciamo è il momento per anche raccontare un po' che cosa accade ad una persona quando si trova improvvisamente vittima del lavoro e con una mano diciamo che non ha più la funzionalità di prima, ecco diciamo così. Che cosa è accaduto? Allora, buongiorno, io sono una ragazza che nel 11 novembre del 2011 ha avuto un infortunio sul lavoro e lavoravo presso l'azienda, un'azienda che lavora dei prodotti agricoli alimentari e io nel giorno lavoravo, diciamo in quel momento, come addetta al controllo qualità aziendale ma invece avevo un contratto da operaia come bracciante agricolo. In quel momento io stavo rigettando una busta piena diciamo di prodotto congelato nel macchinario e malettamente mi è scivolata la busta e per riprenderla per paura di che mi strillassero, comunque mi facessero pressione, ho ripreso la busta con la mano e sono rimasta intrappolata per un'ora perché comunque i vigili del fuoco sono arrivati in ritardo perché sono stati chiamati in ritardo e mi hanno tirato fuori dal macchinario e sono stata portata subito in pronto soccorso. Allora, la fermo Antonella, Marinella, insomma qui abbiamo già sentito da questo racconto diciamo alcune violazioni, il contratto che non era quello che doveva essere per il tipo di funzione, di dimensione che stava svolgendo, la paura di non essere all'altezza e la pressione del produrre, produrre, produrre e quindi e anche diciamo il ritardo nel soccorso perché le aziende sappiamo a volte insomma cercano di mimetizzare un po' diciamo di anacquare o di nascondere in alcuni casi quello che è accaduto. Purtroppo questo accade e ad Antonella è capitata una situazione in cui lei non era stata adeguatamente formata e preparata a quel tipo di lavoro che stava svolgendo e questo è un aspetto che noi riteniamo grave e soprattutto sarebbe invece fondamentale perché quando un lavoratore si trova di fronte a un'attività, a un lavoro deve essere adeguatamente formato e soprattutto non ci devono essere situazioni in cui si tolgono i dispositivi di protezione individuale perché se ci fosse stata E qui siamo ad un'altra violazione insomma di quelle che... Questo oggi non avrebbe fatto accadere nulla sarebbe stato un incidente passato Torniamo ai roghi e oltre a quello di Tissen ci sono anche tanti roghi diciamo che investono persone di cui non conosciamo nulla e allora raccontiamo la storia di Giuseppina Cifola che ci porta la sua testimonianza che 50 anni fa è stata diciamo al centro di un episodio tragico come quello di Tissen Io lavoravo in una macchina che non conoscevo perché ero addetta a un altro reparto quel giorno non c'era lavoro e quindi doveva rimanere chiuso mi hanno messo in questa macchina dove mandavo un quantitativo di budano dentro queste bombolette vaginali ma capivo già dalla mattina che il macchinario non funzionava e niente il gas mano mano siccome era pesante avanzando avanzando quando arrivato al terzo reparto che erano tre reparti collegati tra di loro arrivò al reparto supposto dove trovò un becherino acceso in un secondo l'inferno e io sono scappata mentre scappavo vedevo che il fuoco mi correva dietro poi mi hanno detto che ero io che facevo scia col colpo ma il fuoco è stato proprio due secondi diciamo il tempo di bruciare due mie amiche a me bruciarmi tutte e due le gambe completamente questioni di terzo grado una serranda il datore di lavoro disse 4 mila lire di danno questo parlo 50 anni fa due morti e io ferita non c'è stato giorno in questi 50 anni che io non ho pensato all'Elia Rosina morire bruciata è la cosa più terribile che possa esistere storie che non si cancellano Antonella che cosa non rifarebbe se si ritrovasse nella stessa situazione e che cosa vorrebbe che le istituzioni facessero? di portare comunque nelle aziende delle sicurezze più ecco di fare proprio dei controlli all'improvviso per far vedere che l'azienda non scivoli controllare se avessero controllato lei non si sarebbe trovata perché in quel momento la rete di sicurezza non c'era e l'insensore nella cochele era stato tolto e se almeno la sicurezza era ben serrata io questo non mi era mai successo quindi lei adesso diciamo non rifarebbe cioè sarebbe più attenta e comunque non si presterebbe insomma sì, avrei fatto scivolare la busta Marinella, tante donne sul lavoro coinvolte in incidenti le donne non calano a differenza degli uomini nelle statistiche insomma ci sono sempre tante vittime donne è vero, gli infortuni al femminile rispetto agli uomini continuano a rimanere a livelli alti non c'è quella diminuzione pari a quella appunto degli uomini una spiegazione forte data anche dal fatto che una gran parte di questi infortuni accade in itinere e attraverso una serie di studi e di valutazioni che abbiamo attentamente verificato questo accade spesso perché le donne sono costrette a svolgere sempre quel doppio lavoro non riconosciuto quindi non staccano mai l'azienda famiglia, non staccano mai e quindi lo stress, l'ansia che comporta in tante situazioni un abbassamento del livello di attenzione ecco che fa sì che alle donne questo fenomeno porti ulteriore incidenti vediamo allora con Giusefina Lessi un quadro complessivo degli incidenti sul lavoro in questa anticipazione dei dati che poi saranno diffusi ad aprile dall'Inail gli infortuni sul lavoro sono in calo del 9% secondo i dati dell'Inail nel 2012 sono state presentate 654.000 denunce di infortuni sul lavoro rispetto alle 726.000 del 2011 lo scorso anno si sono registrati 820 casi mortali con un calo del 3% rispetto al 2011 lo ha annunciato il direttore generale dell'Inail Giuseppe Lucibello anticipando così i dati che saranno resi noti ad aprile dunque si conferma il trend discendente per infortuni e morti sul lavoro anche nel 2012 la crisi ammette l'Inail pesa molto su questa riduzione la diminuzione dell'attività produttiva infatti ha pesato nel 2012 sul calo degli infortuni più di quanto sia avvenuto nel 2011 il direttore generale dell'Inail Giuseppe Lucibello individua nell'agricoltura e alcuni settori dell'industria gli ambiti dove è necessario fare più sforzi per controlli e prevenzione pertanto chiede al governo di mantenere la massima attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro e maggiori investimenti perché le risorse che abbiamo attualmente nel sistema non bastano e allora Marinella De Maffutis prevenire, dire stop anche attraverso una cultura della prevenzione che va diffusa c'è un progetto che voi state mettendo a punto proprio in questi giorni sì, stiamo diffondendo questo progetto Omero che in realtà consiste nella predisposizione di un kit per la sicurezza un DVD con informazioni tante storie di donne come quella di Giuseppina Cifola che fanno capire quanto è grave l'infortunio, cosa accade questo è un modo per richiamare l'attenzione in modo forte è un progetto che dedichiamo agli RLS e alle aziende mettiamo a loro disposizione e possono richiedercelo gratuitamente e anche sul nostro sito tutte le informazioni in merito a questo progetto allora avanti con Omero e allora Antonella lei in questo momento sta lavorando, vuole riprendere a lavorare? sono disoccupata ma ho tanta voglia di riprendere a lavorare questa non mi è mai, non se n'è mai andata questa voglia e vorrei magari rientrare, diciamo, magari con quello che adesso sono un'invalida sul lavoro, quindi magari vorrei, potrei accedere a magari posti di lavoro migliori sicuri e degni di una persona che lavora, penso e noi lanciamo questo appello per Antonella e per le persone che si trovano nella sua situazione grazie alle nostre ospiti